Controlli in vista del carnevale negli esercizi commerciali a sud di Salerno. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha sequestrato 42.000 prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute, soprattutto dei più piccoli. A Vallo della Lucania le fiamme gialle in un esercizio commerciale del posto hanno rinvenuto e posto sotto sequestro quasi 2.000 articoli privi delle necessarie certificazioni e delle avvertenze per l'uso. A Sala Consilina invece i finanzieri della locale tenenza di Sala Consilina hanno sequestrato complessivamente oltre 32.000 prodotti sempre perché privi delle doverose informazioni di sicurezza tra maschere, coriandoli, gadget e travestimenti pronti per essere posti in vendita. Infine a Sapri le fiamme gialle del posto hanno individuato un'attività commerciale con circa 9.000 pezzi, tra cui numerosi accessori di carnevale non rispondenti ai dettami del codice del consumo. Tutti i prodotti sequestrati sono stati tolti dal mercato e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative che possono andare da un minimo di 250 euro ad un massimo di 30.000 euro.